Di Giuseppe Ungaretti, in memoria, Locvizza, il 30 settembre 1916. Si chiamava Mohamed Shehab, discendente di emiri, di nomadi, suicida perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese, e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano, gustando un caffè, e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo, dove abitavamo a Parigi, dal numero 5 del Rue de Carme, appassito vicolo in discesa. Riposa nel camposanto di Vry, soborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera, e forse io solo so ancora che visse.